Ci può aggiornare magari su Carrius come sono andate le visite, se può essere considerato un nuovo giocatore dell'Inter? Sono informato anch'io, le visite le stia facendo, domani dovrà fare quelle Alconi, la federazione, quelle di Donetta e poi sto qui a fare una prova di un paio di settimane e poi decidiamo cosa fare. Un giocatore giusto per completare quel reparto? Come nome sì, come carriera sì, poi vediamo queste due settimane se c'è anche la forma fisica, la voglia e tutto quello che è necessario per poterlo mettere in condizione di essere utile.